Kande dopo due settimane si torna finalmente in campo in una gara di Superlega. Quali sono le tue sensazioni per questo ritorno sul Taraflex? Quali sono le mie sensazioni? Purtroppo abbiamo già vissuto questa cosa perché alla fine abbiamo già avuto uno stop così lungo. Nella terza stagione le sensazioni vissute erano un misto tra emozione, magari un po' di nevosismo per ritornare. La cosa infatti può essere magari di nostro aiuto aver già fatto una pausa così lunga in passato quindi magari qualcosa che non ci si può sorprendere così tanto. La prima cosa è che comunque si va contro una delle prime tre squadre del campionato. Avrete appunto un tour de force nelle prossime due settimane con tre gare nel giro di pochi giorni. La prima avversaria è Civitanova che l'andata vi ha fatto praticare molto al Palabancho. Un tuo pensiero sulla formazione di Marchigiani? Che dire, loro alla fine sono una squadra composta a campioni per disputare, cercare di arrivare in fondo e anche vincere ogni trofeo per cui loro gareggiano. Noi alla fine già la gara è nata e si è dimostrata che potevamo insomma metterli in difficoltà e comunque ci eravamo quasi riusciti se non per qualche sbavatura che però con queste squadre qui comporta praticamente il padre della partita. Dovremmo essere comunque innanzitutto bravi ma pensare più noi stessi per questione che comunque per appunto per il ritorno in partita, per quelle cose lì e poi intanto pensiamo a noi, poi loro sono un'altra cosa.